Ciao a tutti ragazzi della Senza Gisa Porkout, rimanete tutti in casa con Giuseppe e allenatevi con lui e con Francesca, un'amica mia grande che mi sta aiutando a divulgare questo metodo di allenamento in casa. Oggi vi mostrerò un altro mio circuito routine efficace, semplice e adatta a tutti, non le solite planche verticali, le solite calciate difficili che possono fare in pochi. Oggi vi mostrerò come sempre degli allenamenti semplici adatti a tutti, alla portata di tutti, ok? Si parte con 20 secondi jump jacks, 5 pull ups, 20 secondi jump jacks, 5 strade pull up, 20 secondi jump jacks, leg rises alla sbarra, 5 leg rises alla sbarra per 6 volte ragazzi, ok? Si parte, tonometro, sempre, 3, 2, 1, go, via. Forza ragazzi, tutto a scoppio, potete eseguire, eh? Via, circa pull up, 1, 2, 3, 4, 5, di nuovo, 20 secondi jump jacks, lo vedete ragazzi, è un allenamento cardio e allo stesso tempo letteralmente ipotrofico, semplice e adatta a tutti, la semplicità vince sempre, 20 secondi di jump jacks, 5 strade agli a pulato, agli anelli, 3, 2, 1, go, ok? L'ultimo super zette, 3, 2, 1, go, dai, che tocca a te, eh? Forza, rimanete tutti in casa, allenamento con Gisela e Francesca, sgobbevi, ultimo esercizio, addominali, 1, 2, 3, 4, 5, ok ragazzi, che dire, finito circuito, recuperate due minuti e ripartite fino a 6 round, ragazzi, rimanete in casa, prevenzione, non uscite e allenatemi in casa, studiate, leggete, fate tutto in casa, dai un saluto senza accedere al workout, let's go bene! Grazie!